Nelle varie posizioni è meglio suonare l'accordo non completo, ma prendendo magari giusto un paio di note o anche una sola quindi in sostanza rubare brandelli all'accordo e usarli di backup per fare il solo allora suonato così nel nulla risulta un po' ostico riuscire a focalizzare che cosa sta effettivamente succedendo proviamo a farlo con l'aiuto di un valente chitarrista dietro alla telecamera Grazie a tutti Grazie a tutti